buonasera parliamo un po di campo che mi manca mi manca già è appena finito ma mi manca il campo anche per i discorsi perché il mercato voi sapete come funziona no cioè finché non arriva un ufficialità noi possiamo fare mille discorsi possiamo avere delle indiscrezioni possiamo dire in alcuni casi che ci sono le trattative mercoledì dovrebbe essere il giorno appunto deputato per cioè domani per l'incontro di della juve con l'entourage di maria però ripeto fino a quando non c'è ufficialità di un accordo possiamo dire tutto e il contrario di tutto il mercato è difficile da maneggiare va maneggiato con molta cura e spesso quando pensi di averne la padronanza ti rendi conto di essere una sorta di burattino in mano ad altri che ti stanno manovrando che stanno tirando i fili che ti fanno muovere le braccine così ok mi venivano altri gesti tipo questo qua ma perché ma perché naturalmente ci sono i procuratori che a volte hanno interesse a che tu dica qualche cosa te la danno come come vera in quel momento lì tu diventi un'arma per loro per diffondere magari qualche cosa che non è reale ma che serve per muovere la controparte quando dico che il mercato è un circo lo intendo in questo senso e quando dico che non mi piace questo circo esprimo un mio parere da tutto personale poi mi rendo conto che se non si parla di mercato in questo periodo di cosa vuoi parlare non venitemi a dire che mi rompo le palle con la rivisitazione del campionato perché ci dico un minuto e mezzo barra due quindi assolutamente non è una questione di allungare i video perché allora dovrei farei tutti i video così mattino e sera cioè pomeriggio e sera ci metto dentro la partita se voglio allungare i video ragazzi se voi volete io adesso mi metto a parlare e finisco tra un'ora se volete io vado anche anche un'ora vi faccio vedere che non è un problema di allungare il video fortunatamente ho avuto questa dote naturale del parlare e l'ho messa in un lavoro che comporta il fatto di dover parlare anche scrivere fare domande c'è quindi poi se volete io parlo per un'ora anche di più si cazzeggia e si parla non c'è nessun problema volevo tornare un attimo a ma sulla su quanto ha detto ho detto all'inizio parliamo di campo perché perché oggi federico chiesa ha cominciato a correre sul terreno della continassa non è andato naturalmente in vacanza perché perché è un professionista è un professionista serio allora credo che qualunque giocatore dovendo scontare una convalescenza si sarebbe comunque messo a disposizione dello staff medico eccetera però magari altri adesso la settimanella di pausa di vacanza dopo la fine del campionato magari se la sarebbero presa lui è lì che sta continuando a lavorare alla continassa perché perché ha una voglia matta di rientrare al di là di volerlo fare ed è un motivo in più con un grande amico come Vlaovic perché loro erano veramente molto amici i tempi della Fiorentina sono rimasti amici naturalmente non vedono l'ora di giocare assieme ma c'è proprio la volontà di questo ragazzo di rientrare nei tempi giusti non il prima possibile perché è molto coscienzioso è uno con i piedi per terra ma sa benissimo che è come se fosse di fronte ad una nuova svolta della sua carriera come se la sua carriera non dico dovesse ricominciare da capo è una carriera 2.0 nel senso che quando sei riduce da un infortunio del genere comincia un altro tipo di carriera un altro tipo di attività nella quale parti ad handicap perché quando uno comincia a giocare non pensa all'infortunio quando uno subisce un'infortunio di questo genere quando ricomincia a giocare dopo un'infortunio di questo genere pensa all'infortunio è innegabile è inevitabile è umano è umano e quindi deve modificare come dire il suo approccio mentale alle partite per tornare ad essere non al 100% perché sarà impossibile che lui sia mentalmente al 100% spoglio di tutte le sue paure o di tutti i suoi timori o di tutte le sue remore ma arrivare ad essere al 99% di quello che era prima sto parlando di testa è perché poi la guarigione clinica è un conto la guarigione qua dentro è un altro la guarigione clinica ha dei tempi prestabiliti sette mesi otto mesi dopo l'intervento al crociato la guarigione della testa non è prevedibile nei tempi è soggettiva è soggettiva e non è mai una guarigione al 100% perché quel tarlo lì ti rimane dentro quindi lui adesso è a un punto di svolta della sua carriera ha una nuova carriera e ci sta andando con molta convinzione dimostrando la sua professionalità il suo attaccamento al lavoro e perché no la voglia di essere protagonista nella juve a tutto tondo perché il primo anno compirlo sì lo è stato in parte ma ha sofferto molto poi l'andamento della stagione con la juve ha fatto quattro gol chiesa quest'anno ragazzi ha giocato poco 18 presenze se non vado errato quindi il problema sussiste vuole finalmente dare un'impronta in questa squadra con lui sta lavorando e sarà potrà essere un importante acquisto per la juve potrà essere un importante acquisto io ho provato a buttarla lì ve l'ho già detto secondo me col fatto che salterà probabilmente le prime partite di agosto ma col fatto che si cercherà con molta frequenza lui non potrà essere impiegato con tutta questa frequenza poi dovrà fermarsi per quel maledetto mondiale del Qatar e secondo me il chiesa a posto la juve lo avrà attorno a gennaio febbraio quando riparte la seconda parte della stagione però è importante può essere un grande acquisto di gennaio può essere un acquisto normale fino a gennaio e il grande acquisto di gennaio con lui sta lavorando Duzan Vlaovic non so da dove si è saltata fuori la diagnosi di terapia perché non c'è stata una diagnosi di terapia c'è stata una diagnosi di problemi agli addominali poi se pubalgia peggio è vero anche che la zona interessata alla pubalgia va ridosso diciamo degli addominali però se era pubalgia probabilmente l'avrebbero diagnosticata e resa pubblica subito comunque è lì che lavora la continassa pure lui non ha risposto alla convocazione per la Nations League della sua Serbia e quindi diciamo che questa coppia c'è anche Danilo mi risulta che frequenti la continassa anche adesso perché anche lui ha avuto un problema sul finale della stagione quella coppia che dovrà essere la coppia un po' dei sogni della Juve per la prossima stagione è lì che sta lavorando stanno lavorando per voi stanno lavorando per noi giornalisti stanno lavorando per voi insomma e soprattutto stanno lavorando per loro ecco perché la cosa più importante è questa vi dicevo dell'incontro con Di Maria fissato per domani adesso è uscito un altro social avrete sentito una svolta importante della mia carriera da parte di Pogba voglio tornare a vincere molti hanno letto un indizio ulteriore sul fatto che potrebbe approdare la Juve tornare alla Juve gli indizi continuano ad essere molto indirizzati in quel senso lo ripeto per l'adesima volta Juventus sbrigati metti a posto queste due situazioni Di Maria e Pogba portali a casa crea questa mini base e poi lavora su quell'altro sul resto difficilmente Demiral resterà qui vedete che quello che vi ho detto io negli giorni scorsi sta prendendo corpo un po' dappertutto il rapporto non è stato idilliaco specialmente nella parte finale se dovesse tornare Demiral alla casa madre cioè la Juventus diventerebbe comunque un pezzo da mettere sul mercato questa è la forte sensazione di Goliath iscrivetevi al canale ci vediamo naturalmente domani con il doppio video e affronteremo altri temi perché quello che ha detto Allegri sul fatto che Milan e Inter non erano superiori ma la Juve è mancata in carattere e gestione eh ho capito ma chi gli dà il carattere e la gestione ne parliamo domani ciao 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 iscrivetevi al canale